Murano per uno che lavora al vetro si innamora del vetro ed è incredibile pensare come da un elemento così semplice c'è la sabbia si possa arrivare a creare degli oggetti così prezziati. Le mani sono la chiave di tutto e questo me l'ha insegnato un grandissimo maestro ancora quando ero piccolino. Quando vedi degli oggetti creati con il vetro che hai fatto te è una soddisfazione grande. È difficile spiegare cosa vuol dire soffiare il vetro. Per me soffiare è come lasciare una parte della mia anima dentro l'oggetto. Lavorare in questa azienda è emozionante. Certamente è completamente diverso da lavorare cose in modo molto tecnico e quindi c'è una parte emotiva e una parte di cuore fondamentale per quello che facciamo. La sfida reale è riuscire ad ottenere l'oggetto che ci siamo immaginati e questo appunto può avvenire solamente tramite le prove continue, la ricerca e la sperimentazione con l'aiuto dei maestri. Noi alimentiamo il forno. Fai finita che il forno sia come un animale che respira, noi lo otteniamo per le brille. Ci siamo sempre presi cura di tramandare il nostro mestiere che è quello della lavorazione del cristallo veneziano, tramandarlo da una generazione all'altra. Ricercare la perfezione no perché non esiste ma la qualità è l'unica strada, è l'unico mezzo che si ha è quello di dare tutto a se stessi e fin fine.